la settimana in cui cominciare a mettere le mani delio rossi lo aveva già detto nel giorno della sua presentazione a messina scatterò la fotografia dello stato dell'arte poi proverò a metterci del mio e in effetti il tecnico è stato di parola e c'è poco di mio in questo successo sentenzio subito dopo il blitz in riva allo stretto salvo poi cominciare a spiegare il suo concetto di calcio già all'indomani e sabato quando allo zaccheria è atteso il giuliano comincerà pian piano a prendere forma il foggia di rossi che punta ad arrivare più in alto possibile in queste ultime tre gare che separano dagli spareggi ma che ha anche l'esigenza di recuperare quelle energie che diventeranno poi indispensabili quando cominceranno le sfide ad eliminazione diretta fisicamente si può recuperare poco mettendo mano ora si rischia soltanto di fare danni è stato l'altro concetto ribadito da delio rossi mentre dettava le sue prime parole del suo ritorno allo zaccheria ed il riferimento era la condizione fisica di un gruppo che va detto ha speso tanto negli ultimi mesi e che è stato costretto spesso a pagare dazio anche ad infortuni e squalifiche che hanno ridotto al lumicino cambi ed alternative ma tutto ciò ora non può che appartenere al passato la nuova era è cominciata come meglio non poteva e se è vero che rossi non vuole meriti per il successo in sicilia è altrettanto vero che già dopo due allenamenti il foggia è apparso decisamente più compatto e più squadra rispetto alle gare che hanno caratterizzato invece l'era somma se il buongiorno si vede dal mattino insomma c'è da sperare in un finale di stagione scoppiettante grazie a tutti grazie a tutti